Ci troviamo qui a Tremestieri e Tenneo, alla fine della via Leonardo da Vinci, dove proprio venerdì scorso vi avevamo segnalato una discarica abusiva a cielo aperto, dove c'erano vernici, c'erano dei liquami fortemente inquinanti, ma dopo la nostra segnalazione in realtà il sindaco ha preso subito provvedimenti e quindi come potete vedere la bonifica è stata effettuata. Non ci sono più quei sacchetti di plastica e tutto quello che conteneva questa zona, che finalmente è diventata un'aiuola verde a tutti gli effetti. Proveremo tra un attimo a parlare con il sindaco e di raccogliere anche il suo parere sulla velocità con cui è stato eseguito il lavoro. Signor Matteo, quanto tempo è passato dalla nostra segnalazione? Lei ci ha aiutato a segnalare questa discarica abusiva che c'era qui in via Leonardo da Vinci? Sì, già il comune si è attivato l'indomani mattina stesso, già presto sono venuti e hanno tolto tutto quello che c'era sia di inquinante che comunque la spazzatura in genere, anche se la gente comunque viene sempre a passeggiare i cani tranquillamente. Diciamo che perdere il vizio è difficile? Sì, infatti appunto. Discarica di via Leonardo da Vinci, sindaco ce l'abbiamo fatta, missione compiuta? Missione compiuta, sono contenta, anzi ringrazio chi ha fatto questo sollecito e ci ha fatto notare questa situazione un po' delicata. Sono contenta che si sono attivati tutti subito, il comando dei vigili urbani, il servizio di Geseno che ci fa la Geseno e che abbiamo risolto il problema nell'interesse della cittadinanza. Grazie.